Do il bentrovato da Alexander Iacnia, Jeff, il direttore dell'Agenzia Vista. Bentrovato, Alexander. Bentrovato, eccoci, bentrovato anche a te. Allora, come al solito in tua compagnia proviamo a capire che settimana ci aspetta guardando a che settimana è stata. La settimana che arriva, Alexander, è la settimana di Natale e più che mai sarà una settimana all'insegna della lotta al Covid, mi sembra di capire. Sì, come hai detto tu, è una corsa contro il tempo per scongiurare il colore, il colore arancione in questo caso, che segnerà il passaggio da una situazione protetta ad una ancora un po' più a rischio. Quindi il Governo si sta ragionando su vari temi, vari sistemi da mettere in pista dall'obbligo della mascherina all'aperto a vietare eventualmente le feste, le feste in cui non si è seduti. Alcune regioni si sono portate avanti all'estensione del Green Pass, del Super Green Pass per tutti i luoghi di lavoro, addirittura all'obbligo vaccinale. C'è chi propone anche dei lockdown mirati, ad esempio, per i non vaccinati. Quindi assolutamente il tema del Covid, delle misure che dovremo intraprendere, sarà uno dei temi della settimana prossima. Si comincia per quanto riguarda la parte politica già da domani. Ci sarà intanto il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati post-ciopero per vedere che cosa succede con questa manovra. La notizia di oggi sembra superata, ma si saprà solo domani. Il tetto Isee per il Superbonus 110 per quanto riguarda le vilette, le case e quindi questo provvedimento che ha dato impulso alle ristrutturazioni. Ci saranno anche altre novità. Domani, ricordiamo poi, ci sarà l'incontro con l'iscambio degli auguri per il Presidente Mattarella, con le alte cariche dello Stato e sicuramente siamo tutti in attesa di quello che dirà Mattarella. La signora Scossa ha già detto che è un commiato, quindi ha escluso in qualche modo la sua ricandidatura. A proposito di Quirinale, ci sarà forse, l'ha detto oggi Salvini, un vertice del centro-destra. Quindi per riassumere i temi della settimana, il Covid, la manovra che dovrà andare a conclusione, la conferenza di fine anno del Premier attesa per mercoledì e quindi le carte per il Quirinale. Grazie allora Alexander, questo è il quadro della situazione, la tua analisi come al solito utile per capire come ci dobbiamo orientare per raccontare la settimana prossima. Arrivederci Alexander e buon Natale, già che ci siamo. Ecco, buon proseguimento anche a te, buon Natale, c'è l'albero, sì, di là. Grazie, grazie ad Alexander.